E Biancavilla, il comune che ha riportato i danni maggiori nel terremoto avvenuto nella notte fra venerdì e sabato, i controlli congiunti del Dipartimento di Protezione Civile Regionale, affiancato dai tecnici comunali, hanno evidenziato l'inagibilità di tre chiese, Chiesa Madre, Chiesa dell'Idria, per le quali è già stata pubblicata un'ordinanza di chiusura, e Chiesa di San Gaetano, per la quale si attende l'ordinanza da un momento all'altro. Quattro i plessi scolastici chiusi per i danni patiti, plesso Marconi, primo circolo didattico, Don Bosco, primo circolo, Verga, secondo circolo di Via Liguria, scuola secondaria di primo grado Sturzo. Sul fronte dell'edilizia privata sono in corso i controlli di Dipartimento di Protezione Civile e tecnici comunali. 90 al momento gli immobili ispezionati, dopo la segnalazione avanzata dai proprietari, 250 circa in totale. Solo un immobile è stato dichiarato inagibile, anche se l'immediata esecuzione dei lavori ne ha consentito il ripristino. Controllati, sin ad oggi, 90 abitazioni, gran parte delle quali parzialmente inagibili. I tecnici hanno chiesto ai proprietari l'esecuzione di lavori per il ripristino delle condizioni di abitabilità. Anche a Santa Maria di Licodia sono operativi il personale della Protezione Civile con i tecnici comunali. Sul fronte degli edifici pubblici sono inagibili il primo piano di Palazzo Ardizzone e la stanza del Sindaco al Palazzo Municipale. Ma la perdita più grave riguarda uno dei monumenti più significativi dell'architettura rurale dell'Arietnea, la Torre di Calafato, sbriciolatasi a causa dell'intensità del sisma. Per quanto concerne le abitazioni private, su 76 richieste ne sono state vase 20. Di queste due sono risultati inagibili, altre due solo parzialmente. Minori i danni ad Adrano, dove è stata dichiarata inagibile la chiesa di San Pietro, al cui interno è crollato un sostegno in marmo. All'esterno è stato rimosso per precauzione il basamento della croce. Per quanto riguarda le scuole, sono state dichiarate inagibili alcune aule della primaria del Plesso Patellaro, che prima della scossa pativano problemi di infiltrazione d'acqua. Dopo le proteste dei genitori, oggi si sono recati nell'edificio il sindaco Angelo Dagate, l'assessore Vincenzo Lucifora e i tecnici comunali. I locali sono stati chiusi per inagibilità. Adesso dovranno essere eseguiti i lavori di ripristino.